Generalmente occorrono tre giorni, dal venerdì alla domenica. Bisogna che il sugo pippei, deve pippiare, come diciamo noi. Deve fare le bolle come ti devo... Il Raul non è un sughetto qualunque, è una tradizione a Napoli. Una festa, e tutti si vogliono più belle. Ci tenevamo tanto noi a vedere Assuntina, e ce la portarono. Ma, sta bambina, sta schifosa, sta schifosa, ci sputò il ragù dal piatto, ma così, senza ricevere una parola, ma come, dopo tutto il lavoro e tutti i sacrifici che abbiamo fatto, questo è il ringraziamento. Piccere, così non va, ma stanta zitta e rimanghi tra l'altro. Di notte ci alterniamo, il ragù è come una creatura, non la puoi mai lasciare sola. Amai Amai Grazie a tutti.